Ho avuto un percorso di infertilità per tre anni, i primi tre anni di matrimonio non arrivavano figli e quindi ci siamo rivolti a un centro di fecondazione assistita. Lì abbiamo intrapreso il percorso e piantando due embrioni, non si sa come, evidentemente evento molto raro, si sono sdoppiati entrambi, quindi sono rimasta incinta di una doppia monocoriale bi-amniotica, ciò significa due coppie di gemelli identici. Che cosa si prova ad essere protagonisti di un evento così raro? Beh, sicuramente siamo lusingati, la cosa bellissima è che i nostri figli stanno bene, questo è l'importante, sono loro i veri protagonisti della storia, io li ho messi al mondo, ho fatto quello che avrebbe fatto qualunque madre. Come è andata la capitanza? Bene, decisamente bene, cioè inaspettatamente diciamo, non ho avuto nessun problema, ero in ottima salute, i bimbi sono cresciuti bene, quindi diciamo che siamo stati molto fortunati. Cosa avete pensato quando avete avuto una notizia? Da un attimo di grande gioia si è passata un attimo di grande paura, paura, che comunque contattando diverse situazioni come il professore Palladini ci ha dato la sua disponibilità ad accompagnarci fino alla fine, quindi sapevamo di essere in ottime mani. La gravidanza era rischiosa, quindi sicuramente è sopraggiunta la paura dopo la felicità, però come dicevo è andato tutto bene, quindi grazie ai professionisti che ci sono seguiti e anche la struttura d'eccellenza dove ci troviamo. Come avete chiamato i bambini? Abbiamo le femminucce, li abbiamo chiamati Vittoria e Costanza, i maschietti Marcantonio e Geremia. Siete pronti adesso ad affrontare questa avventura? Decisamente sì, certo. Si è sempre pronti ad essere genitori, quindi sì. Poi vi siete organizzati a casa? Ancora non abbiamo preso nulla assolutamente, perché stando qui non ha senso comprare cose qui, poi non si ha come trasportarle, quindi per ora stiamo cercando di accomodare nel miglior modo possibile. Sì, la nostra è un'umile dimora, faremo un po' di spazio e vivremo tutti felici, stretti stretti insieme. Crevi che l'ultima, la piccola, ci ha aggrappata alla vita alla fine? Sì, sì sì sì, perché comunque era piccolina di peso, però nonostante ciò ha seguito i fratelli nella crescita e quindi si è aggrappata decisamente alla vita, ce l'ha fatta. Quanto è stato complicato portare avanti questa operazione? Ma in effetti la cosa principale è stata monitorare in modo vigile e attento l'evoluzione della gravidanza. Poi per fortuna non ci sono state complicanze, per cui siamo riusciti ad arrivare a un'epoca compatibile con una buona sopravvivenza, una buona qualità di vita che è quella alla quale è appartorita la signora. Quanto sono rari i casi del genere? Sono estremamente rari, questo almeno in Europa per quanto ne sappiamo è il primo caso in cui tutti e quattro i gemelli sono arrivati felicemente a termine. E una delle cose più carine, oltre che è andato tutto bene, dopo qualche minuto che erano nato, mi hanno sottolineato il silenzio che regnava in sala parto, quello che non c'è adesso, mentre parliamo, perché è una forma di rispetto ed è un indice per capire se le cose finono lisce o no. Abbiamo fatto la simulazione, se volete raccontare, eravate andati prima a vedere perché in quei momenti lì bisogna fare tante cose. È nata prima Vittoria perché era la piccolina messa più vicino all'uscita, se così la vogliamo chiamare. Poi subito dopo è nata Costanza e poi Geremia e subito dopo Marco Antonio, che in realtà sono nati contestualmente, soltanto che non si possono rivelare tutte e due che nascono nello stesso istante e quindi li abbiamo messi in ordine, uno alle 8 e 51, l'altro alle 8 e 52, ma in realtà avevano medesimo peso e sono nati allo sessorale, quindi identici anche in questo. L'esperienza è stata preparata con la simulazione, come diceva Francesco, nel avere tutto e di più a disposizione in caso di eventualità peggiori, quindi eravamo pronti, c'è stato un training delle infermiere e proprio la simulazione della coppia di assistenza, il team leader e l'aiutante per poter far fronte a eventuali problematiche. Questo non si è verificato ma il percorso è stato gestito impreventivamente, voglio dire, ne eravamo già pronti a tutto.